L'importanza dell'intelligence nell'attività di polizia è essenziale, è un'importanza fondamentale perché noi lavoriamo e tutta la nostra attività operativa si fonda su un approfondimento che nasce dall'attività di intelligence. Una per tutte l'ordine pubblico, la gestione dei fenomeni di ordine pubblico non sarebbe possibile se non ci fosse a monte un lavoro oscuro, un lavoro oscuro nel senso non visibile fatto dagli operatori della Digos e delle altre agenzie di intelligence che concorrono appunto a formare il quadro di rischio che possono incontrare le varie manifestazioni. Grazie 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 Grazie